Signori e signore, benvenuti all'ultimo episodio del sogno americano. Come tutte le belle cose c'è sempre una fine. Vi ho deciso qui di finire il sogno americano, di finire questa avventura che abbiamo fatto di GTA Roleplay, io, Marza e Zano, nei server americani di NoPixel, uno dei server più grandi, i più belli tra l'altro di GTA Roleplay. Io spero vi sia piaciuta la serie, e spero vi sia divertiti a vedere me, Zano e Marza sotto un altro occhio. Non solo intratteitori, perché Marza e Zano lo sono, io magari un pochino di meno su questo aspetto, perché non ho mai fatto Roleplay, o comunque utilizzo il mio carisma tramite pure il gameplay, quindi una cosa particolare. Però ci avete visto fare gioco di ruolo a tutti e tre, una cosa nuova per ognuno di noi, che non avevamo mai fatto o portato qui su Twitch. Quindi godetevi questa ultima puntata, e magari il sogno americano ritornerà. Magari noi tre ritorneremo con NoPixel 4.0. Quindi godetevi l'ultimo episodio. Nell'episodio precedente del sogno americano. Oh shit, one language is that? Italian. Italian, Italian. Me and my friends, yeah, we are Italian. Getting the rifle. Oh my god. I'm gonna grab the rifle and then I'm gonna get stopped and fucked. Bro, there was a Labrador. What the fuck you made me do? No way. Do we leave for the money? We don't care about anything. Io vorrei andare a vedere come cazzo si ripuliscono i soldi. Eh, sarebbe utile da andare. Ci abbiamo delle stacchette. Vado a vedere come si fa. Ok. Ok. We got this. We need a gun. We need a mask. And you can leave them in your house for now. Alright, so get out. Sorry. Go in the trunk. Ok. Good shit, George. Crazy. What the fuck? We need to go. Get in the car. 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 Fuck. Fottete con me un'altra volta Vi sfondo tutti Di giuro ragazzi Se qui mi fanno sparare È la fottuta fine per questi È stato fottutamente figo È stato fottutamente figo Ciao Giorgio? Ciao ragazzi Ciao? Sono solo con Mattias Siamo solo chiedendo per i dati Ok, sono chiamati gli altri Ciao ragazzi E come state? Oh Gio Che è stata fam? Stava a ritirare il reddito di cittadinanza Ma non vi conviene Conviene che lo fai accumulare Credo che ci sia tipo gli interessi Ah ok Quindi cioè Se non lo vio accumula Sì C'è proprio gli interessi Tipo oggi l'ho ripreso dopo ieri Che ho 800 E mi ha dato solo 60 Ah porco zio No allora lasciamo perde È posto Eh sì L'ho provato oggi di nuovo Ehm Frank andiamo a peschare Andiamo a peschare Vattene C'è sta uno che sta Che i pistoli Lascia perde Gio Do stai te? Io sono al fishing spot Ok Arriviamo là Bella 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 Arriviamo a dopo Bella 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 Yeah we are So So Mr. George Yep Today Non siamo a aprire Il dispensario Oh really? We're celebrating Blue A lot of people Know him as Blue Very very good guy He was a pioneer Of weed And he um Unfortunately You know Just lost his way And passed I mean for lost his way Not naturally Yeah Ah yeah Fuck You know It's unfortunate You know A lot of people Suffer From You know Yeah Mental health So today We won't be opening The dispensary We're celebrating His life And I guess There's a whole lot Of free weed Being passed around In Mirror Park Today Fuck yeah I mean That's a good idea To celebrate Instead you know Having those memorial Where you are sad Etc You just have fun You celebrate Yeah you remember It's good times Cause he was a pioneer Like we wouldn't have The legal dispensaries Without him Yeah Appreciate you Kevin Ma davvero C'è una cosa vira questa Where's the other two? They're on their way That's what they told me What the fuck are they? Buonasera signor Giorgio Sono della finanza Mi dica Ma dove il cazzo sei? Per strada Abbiamo avuto Delle cose Da fare Abbiamo schivato Dieci volte La madama Gente che sparava Sto per strada Sto sulla strada Quella grande Sto arrivando Ok Ok Sto per strada Dove veniamo A quello che ti dai il lavoro Sì 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 Vabbè roba di un secondo Sto là Ok bella bella Yeah We need to teach The boys Like where the bad Areas to rob Houses are You know Oh Oh here they are Ciao Wait Hey Ciao Hey guys Hello Ciao How are you doing? I heard you got a ticket So guys So what are you doing? Money Fishing Let's do some fishing Yeah Faccio io il gruppo Tremone I'll grab my car Yeah I got you Non te fidi te Frank Andiamo solo con questo We're going boys Quando è andata oggi? Ma tutto sci L'ho preso le licenze Ora posso portarmi E' un ferro appresso In tranquillità Buonissimo Eh sì 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 10x ora Io prima stavo parlando con Mattias Per quello che è successo ieri sera Quando voi non c'eravate Sì Per parlare con questo Mikey Che è tipo un pezzo grosso della banda Più che altro voglio dirgli Che quello che è successo C'è Noi siamo nuovi Non lo sapevamo E tutto il resto E dai gli chiediamo scusa per aver provato Sì sì Poi vabbè Io gli ho detto Sì Poi gli ho detto A me è partita la sede di sangue Quando ho visto che uno mi ha cominciato a sparare Ho sentito la polvere da sparo Non ci ho visto più un cazzo E quindi gli volevo chiedere scusa Se ho tirato giù tre dei suoi Tutto qua C'è Non c'è No C'è No è hate No capito C'è solamente Io Uno mi ha sparato addosso Io mi sono difeso Non ci ho capito più un cazzo Chi vedevo correre e sparavo Vabbè lo sai Gli dobbiamo dire semplicemente Che non gli conviene In realtà Mettese contro Perché se gli succederebbe Di nuovo Non è Non voglio fare il tizio grosso Cioè se mi caga nel cazzo Però sono pronto a tirare fuori il pezzo Perché il ferro è freddo Non dobbiamo manco fare Troppi buoni Capito Perché se fanno troppi buoni Magari se ne approfittano Ah io perché altro Voglio dirgli che c'hanno veramente Un tizio Che non sa manco sparare Perché non riuscire a colpire uno Che corre con un pacco in mano Tira fuori la pistola Si gira e ti comincia a sparare Sti vagos Sono dei ghiacchieroni Ha spiegato un po' A Matthias Quello che fa qua Praticamente Hai presente i tizi Quelli che ti ho raccontato Che sono i biker I biker Lavorano con lui E gli proteggono Le zone dalla gente Dalla gente che gli va a fottere la marijuana Ti ripaga? Ma tipo si splittano C'hanno un accordo Di qualche tipo Non ho ben capito la situazione Si può dire che comunque Non sono proprio criminali Cioè non è che prendono Sparano a cazzo Cioè sono belli incazzati Ma sono dei tranquilloni Ok vabbè buono Che ovviamente fanno brutto Sono dei biker no? Certo Vai scendi e faccio manovra Mica so frank Figa me Oh cazzo La figa quella alla porcozio Che m'ha chiamato skrillex Ormai è andata Irrecuperabile Che ti ricordi com'era? Eh un bel troione Si Ah some relax Figli di puttana Non avevo il gps Non avevo il gps Ma pensi che se io solo Svimmo in quella bocca Poi posso solo Boro Sì 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 Hai un lockpick Non con me Ma probabilmente Vabbè avrei avuto Con un lockpick Perché Ho sempre Sì Oh sì Poi posso borrow That boat Man Every single time We're here Is looking for That boat È incredibile We ended Our Yeah We're done We're gonna wait You guys Yes Oh Oh For fuck's sake Oh For fuck's sake How the fuck Did you save? Yo guys I'm still triggering No 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 I'm triggered boys I don't know why Bro you sure about that? Ok Ok no Stop chilling You sure about that? Oh my god You don't wanna fuck with me You know No you don't Don't fuck with him I watched him drop three vagos yesterday Yeah Georgie You fucked I think there was only two vagos Yeah but I'm not scared at all I just need my gun And then we can fight Frank Chris Da dove mi avete picchiato C'ho pochissima Sì sì C'è l'ho C'è l'ho C'è l'ho Mi riconfio di pot Questa avrà giocata una ventina di ore di outworld Guarda come sta Quello sembrò io quando giocavo a world of warcraft Yeah Gli stava di oggi potremmo stirare una casa Che aveva una tranquilla per i problemi Yeah Yeah Why not? Yeah You now got a gun So I mean If something goes wrong It's your turn Cato dai mia salta c'è quanto cazzo te pare Sia Cos'è che se potrebbe fa? Cosa? Lezioni di italiano Pog frate Cioè dimmi che non sarebbe Cioè secondo me In sta città tutti vorrebbero Delle lezioni di italiano Ma guarda si potrebbe Che insegni le basi della lingua Alla si potrebbe fare Anzi me la corro pure Perché come te non è male Però secondo me Aprisse la pizzeria Stonsissimo No no Stil pizzeria Apri la pizzeria E Se comprono la pizza Gli insegni pure una parola in italiano Pog C'è sta Tipo Al posto del roster là Cook of the roster là Cook in the box Esatto E si insegni una parola Una parola un bot Ma un boccolà Gli faccio Con te Partire Fermare Fermare Che non ho mai Veduto E visto Oh Stava piano Reverse bocelli frate Sono cieco però Guarda Sto con gli occhi chiusi Oddio Sto con gli occhi chiusi frate Vado dritto eh Beh a sentimento pure Non è male però eh Sto bocelli ora Io mi fermo qua Perché De Frank non mi fido Olè Ci viene addosso Palese 100-100 poi I need to refuel my car Allora I won't be able to like Anzi quando vai verso il fishing spot Sulla sinistra Avete fatto tutto il pay check Che sennò col cazzo Mi da Da lavorare Aspetta Stavo ero occupato Ok Fatto fatto Vai Sto con gli occhi chiusi frate Sì Sto con gli occhi chiusi frate Sì 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 Ma che ci mettono l'olio per terra Porco due Passano con la cera Seguimi per la benza La metto io Frank Ti c'hai due spicci Sì Porco si Ha aumentato Dubiotte È perché mi sa che stavamo proprio A red bro Made spin Quando si svolta E ora dopo andiamo a fare qualche porcheria Giorgi, what happened? Uh, Frank had to put fuel Wow What about Chris? He's with him He's with him What is Matthias? He's in the car He's in the car Oh, okay He's taking a nap or something That's why I got glasses, you know? Kill But there's like a pig in the water Yes You'll get it What the fuck? Shoot it Shoot it, bro No No, you'll get in trouble No, why? We are not in the hunting area I mean, last time we got attacked by What the fuck? I got a gemstone You got a gemstone? Yes Yeah, but it's like the Chris This one, the other times It's like shit Jade Maybe Oh no, Jade is real good Jade is like 500 Let go Or 400 Let's go Easy, boys Give me your gemstone No way, man You got a gemstone? I do Yeah We have a membership there We have a membership at the gallery So let us sell it for you And we get you a lot of extra money for you Really? Yeah Yeah, because we are Yeah, just for the, you know The thing you can take the extra money Right, because we have a membership So they give us a little extra Yeah, but you can take the extra money that you get So, you know, it's a win-win situation Yeah, why not? Who fucking cares, man? Yo, come on You can do You can do a lot of this stuff Just for free I mean But I have I have a job, you know And you guys Yeah, I know that you have a job But just It's a real That's a weird flex Yeah, I know that you have a job Yeah, yeah, yeah It's not a flex It's not a flex You help a lot But I mean It's a You are so helpful for us It's just being reconnaissance That I don't really know If it's in English Word But in Italian It means Recognition Yeah Man, I don't want to die Give me Give me the gun No Man, you're more scared 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 Let's see Pumba That's Pumba Dude, I'm scared Lion King Do you guys know the Lion King? Yeah, yeah, yeah Come on Come on Come on It's the circle of life In the night A scone And the land is dark and the moon is the only light you see no I won't no I won't be afraid just as long as you stand by me so darling stand by me oh stand by me just as long as you stand by me no 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 oh my god what the fuck sta a porte sta a porte di Roma who's looking for me gli do un bacetto a chi alla macchina a chi ma che cazzo la rompi che è pura la tua anche qua non ce n'è proprio di polizia porca oh ma santo guidi bene sta a posto sta a posto c'è la cintura where are we going uh the pier yep piano 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 mi sa che il joint mi ha passato prima cosa era bello duro eh Roma io l'ho visto oh oh c'è uno per terra the fuck musica Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è che io non lo sogo, non lo sogo, solo con il carro e poi... Tone, magari magari loro lo sogo la simile? La simile? Sì, sì, quello che facciamo, lo sogo, lo sogo. Il nostro corso gratuito è, soprattutto quando abbiamo un gruppo di 4, due persone vanno dentro la casa e prendono le cose e una persona resta vicino a un roof come a guardare, guarda, guarda e una persona conduce in circolazione per il block e quando sei pronto per arrivare da casa e uscire un po' di cose tu chiamati il driver, il driver viene a la casa tu chiamati, mettete le cose nel tronco e poi riuscite in così se i coppi vengono non vedono un carnetto in fronte della casa e sapranno quale casa sei, certo? ok, ho fatto non abbiamo tempo per le casse probabilmente abbiamo tempo per l'oxy se vuoi farvi molto di acqua o possiamo fare qualche tronco andiamo per l'oxy, sì, voglio fare questo voglio provare Giorgi vuole avere le mani di nuovo sì, potrei andare in casa per ottenere le scuole quindi se qualcosa si fa male io posso solo, sai, difendere sì Non mi ha messo la maschera Here I am boy Do you have your mask and your guns? Yes sir Do you want me to put my mask on? No 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 later No later Ok so George Do you remember the first step? First step we need to go to the old bernies Old bernies Old bernies Now Frank you drive right? If you see like a pickup truck we gotta steal a truck No you don't have to shoot the driver We just park in front of him so he doesn't like drive away Oh fuck It's ok It's ok It's ok you got him Perfect There he goes Nice Hey hey Get out of here mister This is our car Get out of here Get the hell out of here I'll shoot you I'll shoot you Yeah I never see you like that Let's go Shit man Go get out of here So Four guys On a van With masks on Sounds good I mean I just got a bandana no 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 ok so what we're doing here is like so we purchased the list at the old benny's right and now we got to pick up the list from the trailer here so i'm gonna run up to the house from the trailer get the list and then we're gonna go to sign in ok 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 la mia pistola è carica guys now we gotta let me uh tell you where to go here okay you see the gps yeah oh my goodness frank you're a joker let's go frank i got a joke on you the juke on you uh just one thing frank don't drive too fast so we don't get caught right now okay i'm gonna leave my id in the glove box okay mine is the one on most right is it there it's like here yeah is it like on the bottom right you're on the right boys okay hold on hold on so boys yeah you see it okay you see those girls you see how they they're not wearing masks and they're just kind of like yeah you're wearing normal clothes they're probably gonna get robbed because see they don't look like they belong right they shouldn't be doing these kinds of things right right do you guys want me to make the group yeah if you want to hello can i shoot um you know police cars uh wheels yeah yeah i mean not them but the wheels at least yeah shoot the wheels yeah that's fine yeah apri dietro frank ok devi mettere i pacchi dietro how much back fuck i can't run met il mettere che io sto sistemando i pacchi da quelli che bisogna che valgono di più ogni tanto se mi fermo è perché sto controllando di averli messi bene let me let me check one sec make sure there's make sure there's are we chilling ok are we chilling ok alright let's go just one thing just one first thing um we're going into the condemned area so yeah yeah let me call perchè si sembrava che si tratta così facilmente sono raggiunti Siamo nell'area di Baiglia Non ho alcuni numeri Ok, ok Siamo arrivati all'inno prima Ok Quindi seguiamo il GPS Perfetto F***ing locale E poi vedrai un posto a l'altra chiamato il Mojito Inn Ok Facciamo un stop stop da qui Perfetto Perfetto Allora, un secondo ragazzi Go, go, go Io metterò la mia arma Guardate voi, ok? Ok Allora Praticamente Ok Ma non la tirate su ragazzi Così si vede Se ce l'è sotto non si vede No no, che sto da no Allora ragazzi Praticamente siamo andati ora dai biker no? Che così almeno ci... Se c'è qualche casino Allora questa è la zona loro Sono super ragazzi, super chill Se tu sei... Se li conosci robaire Sono quelli che ho salvato l'altro giorno I mean I was explaining them They are chill dudes But you need to know them Or they will f*** you up Yeah, they're scary too Ok, doesn't look like it So let's leave the truck here Ok Yeah Ok Uh, let's see Uh Open Open, 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 open Ah Aiutami a mettere i pacchi dove li metto io Ah Allora devi fare così Vai da questo Vai da questo E gli fai end of package Ho fatto io Ho fatto io Fai il prossimo Appena si ferma Appena si ferma Eh sì, vieni qua e stai accucciato Vieni qua e stai accucciato Vieni qua e stai accucciato Non ti far vedere Eh, lo so che premi il tasto Non devi correre Ok Vai, 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 vai Salta Bravo, bravo Let's go Prendi un altro pacco Con questo io lo do io E il prossimo io da te Io mi metto qua accucciato perché Sì, se arriva la pula Eh, dobbiamo tirare fuori No, no, c'hai ragione C'hai ragione, c'hai ragione Vai, ne sai che questa è la tua, eh Però non sia uno sotto copertura, frate No, 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 è buono Siamo pronti a chiamare Matias Appena... Tu guardi a destra pure Sì, sì, sì Vai, 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 vai Ok All right, we go, we go Shit, give me one sec, give me one sec Yeah, you go, sorry 2D dietro, boy All right, uh, good, good, uh, thoughts there, George, about contacting them I almost forgot Don't worry, don't worry I was just ready when Chris was jumping for the other Bravo, bravo, George We good, we good, we good Frank doesn't even talk, man, he's so fucking focused At my job here We have no room space for, like, error in this kind of jobs Where's the next job at? Is it in the city? Yeah, ooh, yikes That's a dangerous area Is it? Oh, shit Yeah, yeah, it's okay We can go under the bridge We can hide kind of under the bridge there It'll be okay It's gonna be, it's gonna be dangerous, but we'll hold it down It's Vagos territory Yeah, let's go like this Ooh, look at this Drift King, Drift King Let's go, Frank As I told you, there's no room for mistake in this, in those kind of jobs Okay, um, so when we get up to the spot, you're gonna see, like, a little, um, alleyway That we can kind of hide in On the left Yeah, so keep going straight Left, left, left We might be able to fit in there, actually So just go right in there Stop, 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 stop So, all right, perfect Frank and I, we'll leave the car here Frank and I are gonna go across the street Open, please Open, please, the back Okay, open it Sì, 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 ora è il prossimo, Fede Sì, sì Porco, due l'Interceptor Vai, 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 vai Non so che è successo, Joe Freden, Freden, non lo voglio sapere Ho visto un Interceptor Ho sentito il rumore Vai, che cazzo Hai visto quella che è successo? Andata scontrata, andata spatte Buono, buono, buono Metti i pacchi per terra io Vai, vai Tento spari Chill, chill, chill Tagli, ragazzi Freden, metti il pacco per terra e prendi un altro O prendilo quando si avvicina la macchina Stiamo troppo lontani Yeah, yeah Yo, um, I don't know what's going on People are not showing Yeah, they're slow Sometimes it's slow, you're just patient Yeah, okay, we're just waiting here We put the packages on the ground Yeah, okay We're now holding them Okay Okay, perfect Che a volte sono lenti Vai, vai, vai L'alti stanno tutti qua Tira fuori la pistola quando io lo prendo Ah, sì Se arriva un poliziotto qualcosa Punta la pistola e Diedi non fare un cazzo Okay Ti sparo? No, no, no Diedi sta tranquillo Non fa niente Se lui tira fuori la pistola e te la punta Spara Ok Preso l'ultimo mio E poi c'è l'ultimo tuo Dai, dai, fratamo Go, 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 go No, no, no Devo consegnarlo Appena lo consegno chiama Appena vedo che arriva gli faccio uno squillo Appena, sì Appena vedi che arriva il tipo Oh, ok, ok, ok Allora, yeah, yeah One Appena la carta, la carta Oh, ok, ok Tira fuori, tira fuori, tira fuori Good job, boys Good job Let's go, let's go D, we did it Here Here Perfect Shit, dirt Ok, the other one It's ok, you got lockpick? I do, I do I got this, I got this You do? Ok, let's go The other one, the other one The other one, the other one The other one, the other one Shit I got, I got five You can go, you can go in Quanto oxygide, Joe? Ah, io ci ho preso, mi ha preso pure quello di prima che c'avevo a casa I got five, is it good? How do I say success? Successo Perfetto 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 Perfetto, boys Perfetto 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 We can remove the mask now We're still in a... Like, in a bad situation So I think I mean If they will see four guys with mask with a car It will be worse Yeah, the front same Ok, so when we get to this spot Ok Frank's gonna stop like on the hill Before we get to the house Ok? Ok Yeah Ok Let's go Let's go Let's go Let's go Man, that was... That was clean I'll do it Man, that was clean, fuck As I said to Matthias first Like, we've been so lucky that all the police are like involved in something so much bigger than us Is he? Cause that was a very dangerous spot Man, I... I saw the interceptor Across the street Yeah Doesn't look that dangerous that was before Oh shit! What the fuck? What the fuck? That's not the case Like, if the guy stopped, we'll be like dead By now Ok, you see the house? Yeah Alright, you stop here Stop, stop, stop We're gonna get out We're gonna go... You boys follow me Frank, you just go straight to the house, ok? Yup In the back Mask on It's serious It's serious Giorgio, you sell your pills? Yeah, yeah You have to sell given items for Giorgio Is that the scene? There's a car over there There's a car over there Are they filming? Yeah Yeah, they're stopped ahead of us I mean, okay, let's go Ok, ok Chris, you get in the car with Frank Frank, you're gonna just like drive off, make it look like you left, ok? Me and George are gonna hide in the bushes And... We're gonna kind of shoot in the air When you hear the shots, you pull in, ok? Shit, they saw you, George, they saw you You think so? Come away When you see When you see Where are you? Where are you? Where are you? As we were already Where are Mathias? sai dove c'è? oh c'è 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 let's go to the apartment the bank you gotta put your money away right? ok i can like put my dirty money in the bank no 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 the boys have money from selling at hill yeah just a little 1.5 1.6 1k oh jeez that was love unfortunate yeah we were unlucky with the package there were no hot stuff inside where are we going now? home where do you have to go? i gotta go to the apartments oh let's go let's go what the fuck? yeah you know sometimes oh fuck strike i guess so castle's animal fuck this one too man remind me to never introduce frank to my boss win song well i'm sorry again i'm sorry we didn't make like a whole lot of money but um man it's completely fine it's all experience you guys learned how to do it yeah it's the experience you know it's the rush you know yeah i enjoy it i enjoy it yeah you guys learned how to learn how to do it now so you don't even need me you know if you guys want to just run it yeah we don't need you but we want you all right have a nice day guys it's been a pleasure yeah yeah bye 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 see you man see you man it's even too easy yeah what are you doing georgie? yo man what the fuck i didn't recognize you how's it going man? what's up? we just went to do some oxys i was fine how was that? really clean this time really really clean really really? you had fun? i mean it was you know super chill that's i was trying to get my rented car but i forgot how the fuck i put it oh wait they're calling me they told me yeah they're in front of oh georgio i don't know if frank has told you but we have that's right now he's got to sleep because he's tired you understand? i have to sleep for sure you understand? you understand? you made a dream yeah i missed that thing we will do it tomorrow ok but now are you guys gonna do? i'm just so tired i'm just so tired okay i'm just so tired hello i'm so tired hello 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 Ehi man! Yo, yo! I'm back! Where you at? Oh, um, we're over in Mirror Park. We're gonna go to the, uh, Bosa... You wanna get high? Yeah, 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 I'll come with you, man. Hey, guys. Hi, Georgie. Wow. How many people? Da cazzo di 150? Ma io non ho capito, ma questo è morto veramente? Giocava su Nobizel. Giocava qui perché dicono che è morto qualche tempo fa, poco tempo fa. Ma state scherzando? E tutti i giardieri lo stanno commemorando. Oggi era il suo compleanno. Porco. Guarda che community. Guardate a car up here and we'll… We'll just all lay in behind you. All right, appreciate it. Oh, my God, wow. What happened? Hey! Wow! Wow. I'm ready to wash these fireworks. It's going to be interesting. Yeah. I don't know where Irish went. Yeah, let Charles get through. Yeah, let Charles get to the front, guys. Go by the way, go by the way. Yeah, let's go. It's not a race. Oh wait, yeah, it's a race. I mean, it's more of a follow-up. I'm just going to watch the fireworks. Man, this thing is fucking incredible. Yup. What the heck, guys? You are amazing. So mad, so loud. What do you say we cheer on the racers, huh? You going to join? Really? I don't see you going. Really? Really? It's a free boat. Happy birthday. Really? It's a sexy car right there. It's a sexy car right there. Happy birthday, Bo. Happy birthday, Bo. Happy birthday, Bo. Happy birthday. Happy birthday. Ora capisco perchè le luci del mio camion erano blu, raga Le luci del camion che ho guidato oggi pomeriggio erano blu Questa cosa è incredibile Questa cosa è incredibile Dovano fare tre giri Questa cosa è incredibile Devono fare tre giri Madonna ragazzi Eh Questa cosa è vero Questa è vero Questa è vero Oh 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 Mi sa che Nick lo conosceva perchè è super emotivo Oh 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 è una delle cose più triste in cui mi sono trovato all'interno del video gioco grazie E' allucinante questa cosa Il suo personaggio è quello là vicino alla macchina in piedi Dove sta andando il tipo ora? Vado a abbracciarlo No 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 ragazzi che avvicinati eh Una mancanza di rispetto non conoscevo la persona Non conoscevo la persona Ehm So, se vuoi fare questo più semplice Potremmo lasciare la Questa è la mia squadra e la mia squadra E poi la squadra può essere iniziato Se vuoi con tutti? Sì, è vero, assolutamente. Sì, assolutamente. Quindi tutti prendono la linea di voi? Sì, non lo so. Il personaggio l'hanno messo gli sviluppatori del server. Per ricordarlo. Ragazzi ho i brividi. C'è che tu sia prospettoso stare qui e osservare in silenzio e partecipare a quello che stanno facendo. E prendere poi e andare lì. Hey, se è ok con i tuoi voci, sì. Sì, sicuramente. Sì, faccio lo stesso. All right. Sei ok, Matthias? Sì. È stato un bellissimo birthday. Sì. Ed è qui che si conclude la storia di Giorgio, Chris e Frank. Il trio ha imparato tutto il necessario per sopravvivere a Los Santos, ed ora sono pronti per vivere la vita di tutti i giorni. Ma la cosa più importante di questo viaggio sono le persone incontrate, e soprattutto l'amicizia di tre protagonisti che sia ulteriormente rafforzata. La comunità di questa città ci ha dimostrato che questa vita non è un semplice gioco. I legami che si creano sono veri, capaci di arricchirci, e che non sono tanto importanti i soldi e il traguardo finale. Ciò che conta davvero sono le emozioni che proviamo, e le persone che incontriamo durante il percorso. So, darlin', darlin', stand by me, oh stand by me, oh stand, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, and the mountains shall crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, I won't shed our tear. Just a slow darling Just a slow darling Questa è la seconda serie di Power Originals Che ha un inizio e una fine Speriamo che ce ne sia un'altra Piccolo spoiler Saranno degli neri Quindi Ci chiamiamo alla prossima Is it just me Staring in the mirror On the wall All I can see There's nothing Grazie a tutti